Ben trovati su Yogare. La lezione di oggi è una lezione di saluto alla primavera. Una sequenza di posizioni, quindi come quella del saluto al sole conosciuta da tutti o come quelle delle altre stagioni della scuola Yoga Ratna ideate dalla maestra Gabriella Cella. La sequenza di saluto alla primavera è una sequenza che si concentra soprattutto sul rinforzare il bacino e l'addome nella loro muscolatura. Previene anche nei casi di allergie alimentari e quindi anche in un momento di passaggio come quello della primavera è ottimo avere questa serie guidata di esercizi che si possono fare al mattino e alla sera senza controindicazioni. Allora cominciamo questa lezione prendendo un momento di ascolto, di centratura, una posizione comoda che ci permetta di allungare bene la colonna verso il cielo e di ascoltare. Dopo un momento di ascolto e di centratura all'inizio andiamo a riscaldarci. Quindi ci portiamo carponi sul tappetino, i polsi in linea con le spalle, le ginocchia con le anche, lo sguardo è dritto davanti a noi. Gli addominali raccolti, inspirando allungo un braccio e la gamba opposta. Nell'espiro scendo senza dover guardare dove appoggio la mano sul tappetino, tanto è il vostro tappetino, non ci sono insidie, quindi affidatevi alla terra. Inspiro, cambio braccio, cambio gamba, espiro scendo. E lo fate per qualche volta mantenendo sempre l'allungamento come se vi tirassero dal polso e dalla caviglia. In questo modo andiamo ad allenare l'equilibrio che ci serve in questa sequenza in una posizione iniziale. Un esercizio abbastanza semplice che stiamo facendo in dinamica. Dopo invece, tornando a terra, andiamo a spostare il peso sul lato sinistro, inspirando, distendo tutto il lato destro. È un po' più difficile, la manteniamo respirando concentrati, lo sguardo dritto e gli addominali raccolti.